Buongiorno a tutti ragazzi, amici del canale, del youtuber e da tutti appassionati di campane come me. Oggi si tratteremo con la chiesa del convento di Santa Maria di Parempoli. Abbiamo un certo di 5 campane che adesso ascolteremo solo per la Santa Messa delle 9 e mezzo. Quindi fra il tempo posso vedere, questo è il campanone, questa è la mezz'ora, la tre mezz'ora, le piccoline. Io so ascolteremo un bel tempo, la chiesa del campanone delle 9, poi di sesta quella non sull'enne, poi le dava un quarto di sesta la mezz'ora, poi le dava un bel tempo e mezzo di sesta della seconda. Quindi a presto, a dovaldo campanario, ti ascolto a tutti. Ciao! Mettiti una mascherina. Mettiti una mascherina. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.